Per le parole dell'Europa oggi parliamo del piano europeo per gli investimenti esterni, un piano d'azione che mira a cercare di contribuire a stabilizzare in particolare l'area di vicinato, l'area del Nord Africa, del Medio Oriente, attraverso una serie di investimenti mirati in strategici, considerati strategici dall'Unione Europea nell'ambito appunto della politica di stabilizzazione di queste aree. Un piano che prende ad esempio a modello il Fondo Europeo per gli investimenti strategici per andare a mobilitare anche investimenti privati, per cercare di mobilitare quante più risorse possibile per favorire la stabilizzazione dell'area di vicinato dell'Unione Europea.